I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dell'Aquila unitamente ai militari della compagnia di Pescara hanno rintracciato anche il sesto componente della banda dedita ai furti all'interno delle abitazioni ristrutturate del centro storico dell'Aquila. L'arrestato anche egli di nazionalità rumena è stato rintracciato nel comune di Spoltore. L'operazione è scattata nel primo pomeriggio di lunedì quando le attività investigative hanno permesso di localizzare il ricercato con certezza assoluta. L'uomo è stato bloccato nei pressi della sua abitazione, luogo dove aveva appena fatto rientro in seguito ad un soggiorno in Romania. Il giovane, autore materiale di diversi furti avvenuti nel capoluogo, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari così come disposto dall'autorità giudiziaria aquilana. Un uomo di 48 anni di Ortona è morto questa mattina verso le 8 in un tamponamento verificatosi lungo la strada statale 16 nel territorio di Ortona. L'uomo, una guardia giurata alla guida di una Fiat Multipla, ha tamponato un autobus di Tua che era fermo per far salire i passeggeri. Nell'impatto il conducente dell'auto, che era solo a bordo del mezzo, è deceduto sul colpo. Assolti perché il fatto non sussiste questa mattina dal GUP del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, il sindaco del capologo adriatico Marco Alessandrini e l'ex vicesindaco Enzo Del Vecchio accusati di omissione di atti di ufficio in concorso e giudicati con il reto abbreviato in merito alla vicenda riguardante la cosiddetta ordinanza di divieto di balneazione fantasma dell'agosto 2015. Per la stessa vicenda il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere per il dirigente comunale Tommaso Vespasiano. Quando chiedono al ministro della salute Giulia Grillo se ci sarà una revisione del piano ospedali per l'Abruzzo il ministro afferma che noi abbiamo l'apertura per ridiscutere su situazioni che sono particolarmente gravi e disagiate. Non vi posso dire i termini di dove, quando, come, perché, però la disponibilità a rivedere alcune questioni c'è. E quanto affermato oggi a Chieti il ministro della salute Giulia Grillo intervenuta ad un incontro elettorale per la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della regione Abruzzo Sara Marcozzi. Banca Monte dei Paschi di Siena torna operativa negli storici locali di Corso Federico II nel centro dell'Aquila all'interno della zona rossa, luogo simbolo del sisma che ha sconvolto l'Abruzzo il 6 aprile 2009. Dopo un intenso lavoro di recupero e ristrutturazione, spiega la banca, Monte dei Paschi di Siena, riapre al pubblico gli uffici al piano terra del Palazzo del Grand Hotel, originaria sede della Banca Senese fin dal 1979, inaugurata oggi con una veste completamente rinnovata. La foto di Palazzo dell'emiciclo all'Aquila, illuminato di rosa, è stata inserita dalla Gazzetta dello Sport, oggi a pagina 30 sotto al titolo Apoteosi Rosa, nel gruppo di 10 foto rappresentative delle città di tappa del Giro d'Italia 2019. La sede del Consiglio regionale d'Abruzzo è stata scelta dal Comitato del Giro d'Italia come monumento rappresentativo dell'Aquila per la tappa del 17 maggio. Il riconoscimento della bellezza e della suggestione di Palazzo dell'emiciclo da parte del prestigioso quotidiano sportivo e un inizio importante per la tappa dell'Aquila, commenta l'assessore comunale allo sport Alessandro Piccinini. Ringrazio la Regione e i suoi lavoratori, prosegue per le attività realizzate per questo primo evento legato al Giro. Inserimento nel mondo del lavoro per 170 giovani della provincia aquilana. Questa opportunità è stata data dal progetto Borse di studio lavoro della Fondazione Carispac, i cui risultati sono stati illustrati all'Aquila. Ce l'occuperemo tra poco nella rubrica Il Punto. Grazie a tutti.